La battuta diretta di Torreira, l'aggancio di Linetti, finta il tiro, poi riallarga per Ramirez, palla dentro, allontanata, il recupero di Silvestre, il gol del vantaggio Samp, minuto 35, la prima rete in campionato di Mattia Silvestre, sblocca il punteggio al Ferraris, Samp 1, Udinese 0. Un rigore in movimento per l'argentino che fulmina Pisarri e porta avanti il Doria. Il corner, pallone allontanato, bravo Linetti a riaprire il gioco a sinistra, Ramirez in mezzo di prima, allontana Liadnan, la sentenza Silvestre con il piatto angolato, mira nell'angolino, niente da fare per Pisarri. Grazie. Grazie.